Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata carissimi. Invochiamo sempre per intercessione della Mamma Celeste e lo Spirito Santo perché possa illuminare il cuore e accendere il fuoco del suo amore nel nostro cuore. E diciamo la preghiera del Padre nostro, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma libereci dal male. Amen. Per ricordare due punti, due versetti di ieri, Gesù rispose loro Io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai. Vi ho detto però che voi mi avete visto eppure non credete. E poi dice, questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. Ecco, queste parole dicevamo ieri sono, diciamo, scandite da tre verbi. Venire a Gesù, vedere Gesù e credere in Gesù. Quindi queste tre parole, abbiamo visto ieri, se le viviamo proprio accogliendo questa azione che il Padre muove dentro al nostro cuore, se le accogliamo ci portano a incontrare attraverso Gesù l'amore del Padre e quindi ci portano a vivere, ci portano la vita vera. Il punto difficile tante volte è quello che dice Gesù voi mi avete visto eppure non credete. E questo è un punto importante per fare dentro di noi un discernimento, ecco. e oggi c'è qualcosa di veramente incredibile che succede nel Vangelo. Sembrava che fosse sufficiente venire da Gesù, vedere e credere in Lui per nutrirsi di Lui, per non avere più fame. Sì, diceva questo, però oggi introduce qualcosa di nuovo, di inaudito. e ascoltiamolo allora dalla voce di Carlo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù alla folla, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato e io lo riuscirò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre. Solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità, io vi dico, chi crede alla vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo. Perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. E il pane che io gli darò è la mia carne per la vita del mondo. Parola del Signore. Lode al Teo Cristo. Questa volta penso sia necessario proprio prendere quasi versetto per versetto il Vangelo per entrare dentro e che cosa possiamo notare come sintesi che il venire vedere credere viene ripreso anche oggi e viene messo in evidenza il ruolo del Padre in tutto questo. E poi alla fine si aggiunge la novità assoluta che questo venire vedere credere può essere vissuto con un gesto molto materiale e che è scandaloso pensato nei confronti di Dio. mangiare ecco allora veniamo ai versetti dice nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato e io lo risusciterò nell'ultimo giorno sta scritto nei profeti e tutti saranno istruiti da Dio chiunque ha ascoltato il Padre ha imparato e ha imparato da Lui viene a me è meraviglioso vedere che sì c'è il Figlio che agisce ma dietro c'è il Padre che sta agendo e sta agendo in maniera meravigliosa perché Lui è veramente Papà è veramente Padre è veramente nei confronti di tutta la creazione si sente la volontà di soccorrerla di salvarla ecco questo Padre muove tutto da dietro le file da dietro le quinte muove tutto e quindi anche è colui che mette in movimento il singolo uomo o donna facendoli sentire l'attrazione verso Gesù che cosa è questa forza di attrazione è qualcosa che non possiamo definire o descrivere è qualcosa di misterioso qualcosa che si può soltanto ascoltare nel cuore da dove anche il Padre può parlare e questa forza attira verso Gesù è il Padre che mette in atto questa attrazione ricordiamocelo continua non perché qualcuno abbia visto il Padre solo colui che viene da Dio ha visto il Padre quindi il Padre possiamo ascoltarlo nel cuore ma solo ascoltarlo perché solo il Figlio che è alla presenza del Padre e lo vede quindi a faccia a faccia può rivelarci il suo volto con la propria umanità visibile Gesù ci mostra il volto invisibile del Padre e aggiunge in verità in verità io vi dico chi crede alla vita eterna e allora che cosa vuol dire questa frase chi crede alla vita eterna vuol dire che se io accolgo il volto di Dio Padre che Gesù mi rivela e che spesso è così diverso da quelle immagini di Dio che io mi sono fatto se mi apro a questo volto vero ricevo gioia sento la pienezza di vita sento di risorgere sì perché il volto che avevo prima in mente mi rendeva schiavo e a volte diciamolo potrebbe succedere una cosa tristissima quando il mio cuore è chiuso allora di fronte a quello che Gesù mi mostra rimango scandalizzato perché preferisco un volto falso di Dio che legittimi i miei privilegi le mie convinzioni sbagliate questa è una cosa tremenda ma che a volte succede ecco continua poi io sono il pane della vita i vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti questo è il pane che discende dal cielo perché chi ne mangia non muoia ecco qui c'è la parola scandalosa mangiare mangiare Gesù ecco potrebbe sembrare forse un mangiare figurato perché dice io sono il pane che discende dal cielo perché chi ne mangia non muoia potremmo pensare un mangiare in senso figurato ma poi la frase successiva toglie ogni dubbio io sono il pane vivo disceso dal cielo se uno mangia di questo pane vivrà in eterno ecco la frase e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo non è più mangiare figurato simbolico e basta c'è una concretezza proprio una carnalità in tutto questo quindi qui Gesù scende proprio giù al nostro livello usa proprio la sua umanità concreta la sua carne per venirci incontro fa una operazione impensabile per volontà del padre si impasta con la nostra carne per farci risalire allo spirito aveva detto a Nicodemo quello che è nato dalla carne è carne e quello che è nato dallo spirito è spirito diceva ancora Gesù in un altro passo la carne non giova a nulla è lo spirito che dà la vita quindi sembrerebbe che fra la carne e lo spirito c'è una distanza incolmabile ma proprio Gesù in lui abbiamo qualcosa di incredibile è lui che colma questa distanza perché la sua carne vera reale come la nostra è una carne nata dallo spirito che diventa aiuto efficace a noi che tanto facciamo fatica a nascere dallo spirito si fa aiuto per noi affinché anche la nostra carne unita alla sua nasca dallo spirito come unire la sua carne alla nostra nel gesto più quotidiano più normale più necessario di ogni giorno quello quello di mangiare ecco quando noi mangiamo non ci facciamo tante domande lo facciamo e quello che succede dopo è qualcosa di molto importante ed è veramente necessario ecco allora se ciò che mangiamo sarà la carne di Gesù allora quello che succederà sarà qualcosa di meraviglioso e sarà qualcosa di veramente necessario per chi vuole avere la vera vita ecco allora queste cose che sono scandalose per chi stava ascoltando ma penso anche per oggi richiamano quella frase misteriosa che aveva detto a Nicodemo se vi ho parlato di cose della terra e non credete come crederete se vi parlerò di cose del cielo ecco signore aprici il cuore per accogliere un dono che veramente è scandaloso per la tua capacità di scendere nel nostro livello e nella semplicità di un pane offrirci la tua carne da mangiare preghiamo vieni Gesù riempimi di te ti dono il mio cuore riempilo del tuo amore donami tutto te e con te donami le tue virtù amami Gesù fa che io ti ami con il tuo amore grazie Gesù grazie che io sono qui sono qui perché tu sei buono soltanto perché tu sei buono vieni da me vieni da me che io vengo da te e siamo una cosa sola amore amore e misericordia e miseria una cosa sola il mondo ha bisogno di te amore e misericordia fa che io ti porti nel mondo intero il Signore sia con voi e col tuo spirito per intercessione della mamma celeste che ha la stessa carne di Gesù vi benedica Dio Onipotente Padre Figlio e Spirito Santo amè